Buongiorno a tutti, sempre dall'ufficio associazione noi credevamo a Varga Polare di Vicenza, come è anche Mario, lunedì 13 di gennaio. Questo video per dirvi tre cose importanti dopo l'assemblea di sabato. Per chi c'è stato e per chi non c'è stato abbiamo dato delle iniziative importanti, con una di queste siamo già partiti. Quindi di seguito questo video che troverete sulla nostra pagina abbiamo già preparato la lettera da mandare al Presidente della Repubblica Mattarella per sfiduciare il comportamento e per chiedere una presa di posizione di sfiducia sul comportamento, sulle dichiarazioni e sulla mancanza di autocritica del Governatore di Banca Italia, Visco. Lo trovate appunto sulla nostra pagina di seguito al video, Mario l'ha appena caricata, basta firmarla e mandarla via per raccomandata al Presidente della Repubblica. Mi raccomando, più lettere arrivano meglio è. Quindi io spero che almeno tutti i 3.200 lotti partecipanti dell'assemblea di sabato la firmino e poi magari anche tutti i risparmiatori che hanno un conto corrente perché come avete capito sabato siamo a rischio tutti. Se Banca Italia continua così siamo veramente a rischio tutti. La seconda lettera che abbiamo dato oggi sempre di conseguenza all'assemblea di sabato 11 è questa qui, grazie Mario, al Dottor Messina e a Banca Intesa perché moltissime persone ci hanno detto che stanno aspettando i documenti, chi da 90, chi addirittura da 120 giorni. Abbiamo chiesto un incontro a Intesa, nel frattempo c'è la possibilità di fargli contestazione sempre con il modulo che trovate nella nostra pagina. Comunque abbiamo chiesto un incontro a Messina perché ritardi di 120 giorni sulla consegna di documenti penso che siano inammissibili dopo che hanno acquisito la parte buona delle nostre banche e che comunque con il residuo di Popolare di Vicenza insomma sono riusciti a fare molti utili. Quindi chiediamo un incontro per risolvere il problema, speriamo ci risponda il prima possibile, vediamo se c'è la buona volontà. La terza lettera che abbiamo mandato è questa, abbiamo dato la terza lettera a tutti i comuni del Veneto e a tutti i sindaci perché se vogliono, e quindi vedete, verificate se il vostro sindaco lo farà, se vogliono avvisare tutti i cittadini che ancora non lo sanno, comunque tutti i loro cittadini, che c'è il FIIR, c'è tempo fino ad aprile per fare la domanda, la domanda, salvano anche i documenti, quindi che ci sia questa possibilità, questa possibilità di avere il 30%, abbiamo chiesto ai sindaci che usino tutti i mezzi a loro disposizione per avvisare i cittadini. Noi ci siamo resi disponibili con questi sindaci e lo confermiamo con il video a fare delle riunioni informative su come fare domanda al FIIR nei loro comuni, se ci forniscono una sala, noi come sempre veniamo gratuitamente. Questo è tutto, grazie mille e a presto.